non so voi ma a me piace suonare su uno strumento pulito e scorrevole quindi l'argomento non è noioso vediamo come pulire tastiere e manico nel migliore dei modi per farci suonare al meglio quello che ci serve è olio paglierino alcol denaturato una vecchia maglietta non fa niente se colorata basta che sia stata lavata molte volte da dividere in vari pezzi pulizia tastiere e manico due operazioni molto semplici prendere un pezzo della nostra maglietta alcol denaturato attenzione non avvicinare l'alcol allo strumento perché va via la vernice quindi non mettete ne troppo dobbiamo solo pulire la tastiera le corde quindi non tocca lo strumento l'alcol questo importante passarlo sotto le corde e tirare su varie volte ovviamente mettete piedi star mettete il contrabbasso su un piedistallo stabile una volta passato sulla tastiera più volte lo passate sulle corde una per una adesso faccio veloce però dovreste farlo un po più lentamente passato sulle corde qui passatelo anche dove normalmente va all'arco per cui togliamo la pece fatta questa operazione cambiamo e prendiamo un altro pezzo di maglietta sulla quale mettiamo un po di olio paglierino questo si può usare anche per pulire poi lo strumento ma lo vedremo in un altro momento stessa operazione passare sotto la tastiera per bene nutrire il legno passatelo sulle corde se volete un scivolamento migliore se non lasciate perdere e poi passiamo anche dietro il manico per pulire il manico non passate l'alcol dietro il manico fatto tastiera e manico disinfettati puliti e adesso non ci resta che fare musica ciao